Amici dello sportello del cittadino, ritorniamo sullo stato di degrado, di decozione assoluta di abbandono in cui versa torre sgarrata che ricordiamo è quell'area bellissima, fantastica che si affaccia sul mare e che appartiene al comune di Taranto perché è isola amministrativa del comune di Taranto, quindi tutte le responsabilità appunto appartengono all'ente civico tarantino. Noi non ci stanchiamo di denunciare questo stato di abbandono assoluto, di menefreghismo assoluto da parte dell'amministrazione, ovviamente unito questo menefreghismo alla inciviltà di chi scarica appunto senza alcuno scrupolo in quest'area. Davvero assistiamo ad un immondezzaio a cielo aperto, passatemi questa espressione immondezzaio ma rende bene l'idea e le immagini certamente sono più eloquenti di ogni mio commento. Vedremo chi si stancherà prima, se io di denunciare o l'amministrazione comunale di intervenire.